Francesco Messina e Lioni, un matrimonio che non sa da fare. Il tecnico infatti non ha accettato la proposta del club irpino. I programmi dell'ex Antommaso, che avrebbe voluto portare al Nino Iorlano anche diversi suoi fedelissimi, tra cui Arzeo, richiesto anche da Langri, Avallone e Liguori, sono distanti da quelli della società Rosso-Blu. Per Messina una rimane in piedi la pista che porta alla battipagliese, dove ha vinto un campionato da calciatore nella stagione 1992-1993, portando la squadra, insieme ai suoi compagni, verso la promozione in C2. La polisportiva a questo punto ha deciso di virare su altri allenatori. L'ultimo nome, in ordine di tempo, accostato ai lionesi, è quello di Mario Silvestro. L'ex allenatore di Santommaso e Visariano ha avuto un primo contatto col club e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori sviluppi con nuovi incontri tra le parti. Di certo, il dopo sicuranza non è ancora partito.